E allora benvenuti riperiani in un nuovo video di questo canale, oggi volevo mostrarvi due plugin dell'IK Multimedia che hanno guadagnato un pochino più di rispetto nei miei confronti, non perché me li hanno regalati o niente, perché come lo so, non lo so, ho contrattato un po' di... la gente non mi regala un cazzo, stiamo antipatici noi riperiani, ma hanno rilasciato... in realtà uno è molto vecchio e uno è molto nuovo, quello molto nuovo è il Mixbox. Il Mixbox non è altro che un praticamente super rack pieno di effetti, esce a 200-300€, dipende se lo beccate in sconto o meno, forse qualcosa di più, voi direte Francesco costa tantissimo, ma in realtà ha dentro un botto di roba, cioè se pensate di comprare solo questo siete praticamente a posto, a parte per il noise gate. Non ho capito perché in tutta questa suite non hanno messo il noise gate, ci sono dentro amplificatori di chitarra, delay, chorus, flangers, compressori, compressori vintage, moderni, riverberi, c'è dentro di tutto, meno che il gate, channel strip, c'è di tutto. Suona molto bene, mi sta piacendo come suona e mi sta piacendo soprattutto anche come si comporta dal punto di vista del routing. Facciamo un esempio, abbiamo questa batteria Prog diciamo, abbiamo quindi dinamica con un 1176, abbiamo un Simil SSL, abbiamo un compressore più tradizionale, abbiamo un De-Ester che suona molto molto bene, mi piace molto, abbiamo poi un limiter che è quello del T-Rax, abbiamo poi una specie di... come si chiama? Mi viene Puig, non Puig, non Puig, il Fairchild e poi abbiamo il classico LA-2A. Negli equalizzatori abbiamo il nostro SSL, abbiamo invece poi quello che potrebbe essere un API grafico, abbiamo uno semplicemente parametrico, abbiamo invece un Puig. E tutto questo è tutto compreso, abbiamo dentro dei filtri di inviluppo, abbiamo dentro tutta una serie di filtri, qual è quello che uso di più per il pass alto? Questo è tutto il filter C, questo è un low pass, questo è un band pass, questo è quello regolabile, questo è quello che uso di più come pass alto. Abbiamo dentro chorus, abbiamo riverberi, la combo room è bellissima. Questa suona da Dio, mi piace un sacco, c'è anche uno stereo imager se ne abbiamo bisogno, abbiamo poi la saturazione, abbiamo un tape cassette che è molto interessante per quanto riguarda il low-fi, abbiamo il Saturator X che suona veramente da Dio, soprattutto nelle modalità iron e steel. Abbiamo poi due tipi di tape, abbiamo una saturazione push-pull come il god mode, però queste sono proprio belle. Te metto un tri-leveler sul master così non clippiamo se proviamo. Gli dà una bella caratteristica. Abbiamo poi tutta una serie di amplificatori per chitarra che magari sentiamo dopo. Abbiamo poi un channel strip simile SSL, un equalizzatore NIV e questo qui che è il più bello, è un EQ-comp, praticamente sia compressore, un solo knob, quindi comprimi di più, comprimi di meno, un po' come l'Airvox della Waves. Poi abbiamo low, mid-gain, mid-frequency, high-gain, quindi abbiamo basse, alte, medie e sweepabili come può essere un piccolo mixer, insomma. Ed è veramente, veramente completo. La cosa bella è che su tutto questo Su tutti questi moduli avete poi un fader di gain per non andare a saturare elementi che non volete. Potete fare il side-chain, ma soprattutto poi potete anche avere il dry-wet, praticamente, di ogni plug-in. Quindi possiamo farla parallela, ad esempio, di questo 670. Driviamolo molto. E possiamo fare un po' di parallela con un 670. Fantastico! Abbiamo un tape cassette. Molto low-fi, un pochino più hi-fi, però sentite che c'è questo lieve wow e questo flutter, anche allo 0%. Questo è il primo plug-in da cassetta che mi ricorda la mio mangiacassette, il mio Sony Dolbs. Questo c'è già un bel colore. Senza? Possiamo poi estenderlo, non mi ci sta neanche nello schermo, ma tutta l'interfaccia è resizable, come dicono quelli veri. Quindi questo dovrebbero farlo tutti i plug-in, però solo quelli nuovi lo fanno. Ovviamente è fantastico! Ovviamente abbiamo anche tutti i vari tipi di cabinet, quindi possiamo fare più combinazioni. Suonano particolarmente bene. Condensatore dinamico, tipo di cabinet. Pazzesco! Quindi per ogni amplificatore che mettete avete tutta una serie di preset. Non so se si vedono la schermata, sono qua sotto. Guarda che suono! Ad esempio qui, secondo me ci sta bene un po' di cassetta. Se scegliere anche quanto noise volete. Secondo me, per il prezzo che chiedono è completissimo. Pensate di comprare tutte queste cose singolarmente dalla Waves. Se fate 29 dollari, quando in sconto per un G76 LA2A Fairchild, la loro suite GTR, il loro DSR o l'RDSR o il nuovo Sibilance? No, il Sibilance te lo regalano. Cioè, sono tanti plug-in. Più magari l'Airverb più l'IR1, perché questo è anche dentro il Reverberia Convoluzione. Cioè, un pacchettone che suona tutto bene. E l'altro plug-in che invece volevo farvi vedere dall'ICAP o Multimedia è l'URSEN. L'URSEN praticamente è questo. Tutti i mastering engineer lo prendono in giro. Perché è anche un'app per iPad, ok? Per fare il mastering. Io però ci ho giocato un po' e per l'OM Studio quella roba qua ha particolarmente senso. Perché ti dà pochissimi controlli. Perché avete tutta una serie di preset. Ma che non sono preset di EQ, stereo imaging, robe strane. Sono semplicemente preset di catene che non potete modificare. Dall'EDM, che è una di quelle più pulite, all'American Lose o l'American Tight, che sono quelle un pochino più colorate. In questo caso, ad esempio, mettiamoci su Jets. Andiamo a vedere la catena. E vediamo che c'è un Fairchild seguito da un DSR, seguito da un compressore, con un Tubi Equalizer e un Equalizzatore Solid Stage. Praticamente avete soltanto questi 5 pomelli, con un'equalizzazione generale, come può essere 60 Hz, 120 Hz, 3K, 6K e 10K. Spingere di più o di meno, pushare di più o di meno con tutta l'equalizzazione in modo collegato. E poi avete questi Mechagame. Il Mechagame finale è quello che vi consiglio di tenere praticamente al minimo per evitare di colpire il limiter interno, che non mi fa impazzire. E dopo il Lursen potete mettere un vostro limiter. Se non vi piace questo EQ, prima dell'Ursen mettete un vostro limiter. Però sentite che colore che ha quel robo qua. Tra l'altro il canale YouTube di Lursen è pienissimo di chicche. Andatevelo a vedere, se sapete l'inglese in un modo decente, è pienissimo di innanzitutto tutorial su questo plugin, ma anche tutorial sulla loro filosofia di mastering, che è un po' troppo colorata per i miei gusti. Loro sono molto aggressivi sui loro mastering. Anche si sente un po' dal colore di questo plugin, però secondo me lo fanno sempre per servire la musica. E finché servi la musica io sono sempre a posto. Andiamo a sentire un po' come suona. Io mi posso schiarire. Posso togliere presenza nelle medie. Se voglio magari una cosa un pochino più distante. Se invece voglio una cosa un pochino meno aggressiva, posso usare il preset EDM. Ricordatevi di buttare giù il make-up gain e di usare un altro limiter. Suona molto meglio. Ricordatevi di un pochino più distante. E dà veramente un bel colore. Una delle cose che sento che mi aiutano di più è questo Solid State De-Esser che usano. E ho un paio di alternative se non avete dei De-Esser, diciamo, da mastering come questo, che è incredibilmente musicale. Potete mettere il limiter number 6. Ha praticamente, se spegnete il resto, un HF limiter. Che vi aiuta un po' con le S. Vi aiuta con... Ovviamente adesso lo sto stuprando. È solo per farvelo sentire. Avere un limiter sulle alte frequenze vi può aiutare a essere un pochino più brillanti, un pochino più aperti e avere un po' questo... Quell'apertura che spesso viene descritta nel suono analogico, in digitale. Molto spesso ci dimentichiamo che tutte le apparecchiature analogiche non è che riescono ad avere tutti questi picchi in alta frequenza così tanto dinamici e quindi molto spesso erano presenti ma limitati. Nel digitale ovviamente è permesso tutto perché è digitale. Se volete provare a ottenere un suono un pochino più analogico nei vostri mastering, provate a usare de-esser con un pochino più di violenza, ok? Ma questa è una cosa che voglio approfondire in un video più avanti. Quindi se vi interessa questo discorso dell'HF limiting, vi porterò un po' di esempi anche di altri professionisti che lo usano. Ci ritorniamo più avanti. Però veramente interessante questo plugin. E quindi questo è un altro di quei plugin con cui vi chiedo di sperimentare. Perché molto spesso è scagato via appunto perché è anche app su iPad e tutto. Ricordatevi una cosa molto molto importante. Attivate nell'impostazione l'HD engine. Fa veramente la differenza. È praticamente un 2x oversample, quindi è come se andasse a 88002. Ha veramente senso avere l'HD engine acceso. È molto pesante per il processore. Però mi raccomando, se volete provare la demo di questo software, accendete l'HD sample assolutamente consigliato. Ve lo faccio sentire intanto su quest'altra sessione che stavo mixando per i ragazzi del Patreon. Tutti questi riverberi sono del mixbox. Quindi abbiamo la Convo Studio, la Convo Flow Mid, la Convo All. Sentite che roba, sono bellissimi. La voce invece ha una parallela fatta con il mixbox. Dove c'è un LA-2A, un grosso boost con un Pultec seguito da un Desser. Poi c'è quest'altro riverbero solo per la voce, molto particolare. Che praticamente ho un Tone Control da chitarra, che entra in un chorus, che va in una control room. Ho messo poi un equalizzatore per controllarlo un po'. E se vogliamo fare un test per capire quanto siano buoni questi plug-in del mixbox, giusto per capire un pochino di che morte morire, proviamo ad andare contro quelli dell'UAD. Quindi facciamo questo tipo di comparativa, cioè mixbox contro UAD. Quindi prima facciamolo suonare un pochino come voglio io, 4-1. Diamo l'uniqualizzata. Ok. Entriamoci bello forte. Siamo invece l'UAD. Su, diciamo l'un e l'altro. Mi piace di più quello mixbox. Un pochino più medioso, quello dell'M-Audio. Però mi piace un pochino più punchy quello dell'IK Multimedia. Molto molto bello. Andiamo a fare un'altra prova. Prendiamo invece un EQ e andiamo a prenderci il nostro Vintage. E quindi andiamo contro il Pultec del Pultec Legacy, che è il mio preferito. Non è che c'è tanto da scappare. Proviamo a dare una grossa schiarita. Quindi 16K boost. 16K boost. Anche qui preferisco il mixbox. Più efficace. Qui vince decisamente questo EQ. Quindi non è che stiamo parlando di roba di scarsa qualità. Hanno messo dentro un sacco di plugin veramente belli, tutti in un pacchetto molto molto comodo. Una delle cose che più mi piace di questo tipo di lavoro è il fatto di poter vedere l'interazione l'interazione tra i diversi plugin con tutto aperto. Cioè, di solito non riesco ad avere compressione EQ o altri effetti tutti di fila ben disposti. E in modo da poter vedere, ad esempio, come un'equalizzazione, faccio un esempio, posso andare a modificare come comprime un compressore. Ad esempio, ho deciso di boostare le basse. Vedo in tempo reale come reagisce il mio compressore. Molto interessante. Senza gli ampli. Bello. Sono molto molto colpito. Sono molto molto colpito e penso che sia un investimento per chi sta transitando magari dai plugin gratuiti verso i plugin di una qualità un pochino più alta. Questo qui può essere un coltellino svizzero molto molto interessante. Ho fatto anche una sessione, se magari vi interessa questo tipo di sessioni, chiare emozioni. La sessione di cui vi stavo parlando, dove ho usato praticamente questi plugin, siccome li stavo provando, li ho usati per una sessione di lavoro. Perché, fuck it. Piccolo. Mi posso malapena girare. E c'è una catena molto interessante sulla voce nell'Xbox. Di peggio. Per esempio, quando mi facevano combattere con quelli della mia razza per vedere chi sopravviveva, chi aveva più fame. Quindi abbiamo praticamente un pass alto in cui ho usato il filter O in Ipass senza grosse risonanze. Non ho usato overdrive. Ho però poi usato questo tone control in modalità 3, dove ho appunto basse e alte presenze, niente medie. Un po' come saturazione di un preamplificatore. Piccolo. Mi posso malapena girare, ma non mi lamento. Alla fine ho vissuto di peggio. Gli dà un po' di quella preamplificazione valvolare che faccio sempre un po' fatica a trovare in digitale. Questa qua è molto bella. Poi un'equalizzazione, giusto per dare una raddrizzata alla voce, un 76, un LA2A, un Dessert, e poi un altro piccolo boost sulle basse, perché sono sclerato, in realtà non c'è niente a 60 Hz sulle voci, ma io sento le cose, non lo so, ultimamente sono più pazzo del solito. C'è anche una cosa molto bella che si chiama preamp. Gli riverberi sono fatti sempre con lo studio. C'è un riverbero di studio. C'è poi un altro riverbero, invece più da stanzino. Ho usato un altro riverbero da chiesa per delle urla e ho usato un delay, digital delay, molto carino. L'ho usato sui brani, sono sbaglio. Mi sto usando un delay per allargare un po' l'immagine stereo di alcuni brani di accompagnamento. Sul master c'è appunto l'Ursen Mastering Console in un preset pop rock in realtà che mi dà un po' una mano a tenere su tutto. Sono brandelli di carne, sono anche rimasta incinta. Non ho mai saputo niente di loro, me li hanno tolti subito. E vedete quanto mi dà una mano in realtà al destra sul master lo sto facendo lavorare molto per contenere la voce e poi poterlo spingere. Qui sto usando in realtà il limiter interno dell'Ursen come limiter finale. Vi confermo però che se tirate indietro il make-up gainer e mettete un altro suona un pochino meglio. Qui ci stava, era abbastanza acido e quindi mi dava compensato con un limiter number six con l'HF-limiter acceso in modo da togliere un po' l'acidità che aveva questo master dell'Ursen sul master. Però poi alla fine ho provato a dargli una scaltata con un brizzo in basso di cui ci sarà una review a parte di questo simulatore di console. Veramente bene, cioè devo ammettere che in poco tempo ho raggiunto una voce sicuramente no broadcast, avete sentito che è un tipo di voce molto particolare in questa sessione. Mentre aspettavo che si cicatrizzassero brandelli di carne sono anche rimasta in giro. Volevo appunto una voce molto molto satura, molto tube, un po' vintage e l'ho trovata appunto un po' con questa configurazione. Avevo poi sperimentato, se vogliamo divertirci gli ultimi secondi, scusate, vi sto portando via un sacco di tempo, il tape è molto interessante su questo tipo di di suoni. Quindi se andiamo in distortion, scusate, in saturation e prendiamo il tape cassette, togliamo il tape snaps e giochiamo con la saturazione. In realtà se giriamo verso l'old sentite che possiamo trovare dei colori molto molto intimi per accompagnare un po' questa voce. Senza con un po' più raccolta, mi piace un po' di più. Quindi diciamo che per queste applicazioni un pochino più creative è veramente veramente consigliato. Se cercate invece dei plugin più analitici, più tecnici, sicuramente la FabFilter col suo ProCool, ProChill, ProL hanno dei diciamo algoritmi migliori, più trasparenti per l'orecchio veramente allenato o anche più pratici. Invece in questo mixbox vedo questa gigantesca paletta di colori da cui posso pescare un sacco di cose strane molto velocemente e soprattutto averle in un'unica schermata e mi sento un pochino più in controllo piuttosto che switchare tra diversi plugin, avere le Q e il compressore appunto a parte, poterli vedere tutti di fila e vedere come interagiscono tra di loro molto velocemente mi ricorda il workflow che mi può dare un come si chiama una console dove ho compressore e equalizzazione tutte sulla stessa barra e penso che sia molto comodo poter andare effettivamente senza continuare a cambiare schermate e resettare il cervello tipo ok ora penso all'equalizzazione ok ora penso alla compressione ora penso ai riverberi avere tutto in un'unica schermata ridimensionabile mi porta a fare a lavorare meglio ed è una cosa che vorrei vedere di più e infatti tanti stanno seguendo questa se pensate che ne so allo slate ha una cosa molto simile anche l'analogo obsession ora sta facendo una cosa così a moduli anche il satsun sta facendo a moduli anche loro la waves ha fatto il loro plugin che può contenere più plugin waves però anche quelli poi vanno pagina per pagina non ce li hai tutti di fila ed è una cosa sempre un po' scomoda ad aprirsi tutti i plugin non ti ci stanno sullo schermo se non hai una risoluzione altissima e penso che queste soluzioni un po' come quella dell'MCDSP dove hai appunto tutto il channel strip come ad esempio avete il channel strip che state sentendo in questo momento se riesco a farvelo vedere questo qua invece è l'MCDSP come vedete sono andati su delle cose un pochino più strette però l'idea è proprio questa poter vedere appunto il compressore il gate il de-esser questi enhancer di alte frequenze di basse frequenze e l'equalizzatore un po' tutti assieme in un unico gigantesco channel strip tutto diciamo modificabile insomma che i produttori di plugin iniziassero un po' a capire che questa non è una strada proprio stupida per lavorare su uno schermo avere l'intero esploso del proprio plugin diciamo bello esteso è secondo me una figata pazzesca insomma questi volevano essere un po' una presentazione di questi due plugin sono particolari mi piace moltissimo questo mixbox questo video non è sponsorizzato non me l'hanno regalato sto in realtà provando una licenza dimostrativa che poi mi mi rabbano e maledizione devo veramente allungare questi soldi sto però pensando alle alternative ad esempio io al posto di questo in questo momento sto usando la suite dell'MCDSP che comunque sono 20 euro al mese 10 mesi il mixbox per sempre potrebbe essere una preziosa alternativa ora mancano tutta una serie di cose a mio avviso tipo in questo caso non è previsto multibanda sarebbe molto comodo poter usare questi componenti in modalità multibanda gli stessi componenti molto simili li trovate all'interno anche del sample tank per i loro campioni altro prodotto fantastico insomma il K-Multimedia piano piano sta uscendo a mio avviso da quello che era un po' quel stallone di plug-in del cazzo che facevano una volta tipo il T-Rux non mi è mai piaciuto non lo so hanno messo una marcia in più con questo mixbox e anche con l'URSEN Mastering plug-in ripeto tenete il make-up gain a zero non usate il loro limiter interno che non è per niente buono ma tutto il resto della colorazione e soprattutto dell'High Frequency Limiting di cui parliamo in una prossima puntata è molto molto interessante suona molto musicale ad esempio stavo facendo un master su Patreon stavo usando l'URSEN e non mi ero reso conto che c'era il High Frequency Limiter quindi il loro DESSER che stava slammando ogni volta che colpiva lo snare nel brano il problema è che lo stava facendo in un modo incredibilmente musicale non mi stavo quasi accorgendo che stava scendendo di 6-7 dB mai usano un DESSER così a lungo però mi ha dato l'idea dell'importanza di questo High Frequency Limiting e dell'importanza che sia musicale l'EQ sulle basse dell'URSEN ad esempio mi piace moltissimo boostare il 60 Hz nel loro tube EQ che sarebbe un pull-tech da mastering è molto molto piacevole e sto trovando molto groove soprattutto nell'EDM e nell'Hipop molto interessante non trovo molto interessante il suono invece delle altissime frequenze il 12K è è un pochino troppo acido preferisco usare per assurdo il pull-tech del mixbox prima di entrare nell'URSEN per dare una schiarita quindi è un po' così va un po' usato come aiuto e non come unico plugin per il mastering ma dà un colore molto molto interessante a tutte queste cose da un studio con cui sono abituato a lavorare appunto sia su Patreon che per miei lavori personali sto tirando fuori dei suoni interessanti sono molto contento di questi due prodotti dateci un occhio metteteveli in wishlist magari durante il Black Friday che ci sarà tra un mese scenderanno a un prezzo diciamo competitivo contate sempre che per qualsiasi suite di plugin una ventina di euro al mese li dovete buttare tante volte vi fanno pagare l'annuale qui invece è one time only e soprattutto se siete dei chitarristi fatemi sapere se anche voi piacciono così tanto queste simulazioni perché a me stanno veramente piacendo mi piace molto più questo del GTR della Waves e mi piace molto più questo della versione invece del del Guitar Rig quello del dell'antimistrument mi piacciono più questi qua l'errore incredibile secondo me di questo Mixbox è che loro poi lo vendono per essere usato praticamente nei live loro ti dicono usa il nostro Mixbox stand alone quindi c'è un'applicazione che funziona fuori dalla tua DAOV che ti permette di avere bassa latenza per quanto possa diciamo il tuo computer essere potente la tua scheda audio avere un buffer basso per avere otto canali di insert praticamente e avere questi plugin nel tuo sound live so che parlare di live nel 2020 fa abbastanza male al cuore però per il vostro live stream ok per fare il suono del vostro live stream bellissimo ma se non mi dai dei gate che è la prima roba che metterei praticamente in catena dopo un pass alto in una catena di un live come faccio come come avete fatto a dimenticarvi del gate almeno uno o un noise noise gate e non so come mai non dovrebbe per quello che costa contando tutto il pacchetto eppure è così eppure è così eppure è così Grazie a tutti